No, non hai avuto un'allucinazione. Quello che hai appena visto è un piccolo aereo. Irvine, California. Il pilota a bordo del Cessna ha dato una vera dimostrazione di cosa vuol dire la frase prendere la strada per una pista. A causa di un problema al motore, l'uomo è dovuto atterrare tra macchine, camion, semafori e increduli automobilisti. Miracolosamente, nessuno si è fatto male. Le due persone a bordo del velivolo, a parte un grande spavento, stanno benissimo e nessuno si è ritrovato con la macchina schiacciata dall'aereo. A proposito, complementi al pilota, una manovra davvero top gun.